Dove eravamo rimasti con Zagor? Eravamo rimasti a un po' di tempo fa e quindi oggi... Ne parliamo! Buonasera a tutti e rieccoci ancora una volta su Cannotv oggi, torniamo a parlare del bifolco con l'accetta e lo facciamo con l'ultimo Color Zagor che insomma inizia ad essere anche un po' vecchiotto, si aspetta ancora un po' esce il prossimo. Quindi oggi parliamo della nave volante, il Color Zagor numero 16 uscito nel dicembre del 2022, io l'ho preso poco dopo insomma la sua uscita in edicola, in edicola per l'appunto, l'ho letto, l'ho imprestato, l'ho smanacciato, quindi pur essendo relativamente recente è uno Zagor, un Color Zagor già piuttosto vissuto. A proposito di edicola, qualche giorno fa e a proposito sempre di Zagor è uscito l'ultimo Zagor più intitolato La Maschera del Diavolo, questo non l'ho ancora letto, presenta una storia inedita composta da 192 pagine, il prossimo sarà come sempre visto che i Zagor più che hanno ereditato il posto dei Maxi Zagor si alternano tra numeri che presentano storie brevi, racconti di Darkwood e altri che presentano storie lunghe. Quando lo avrò letto ne parleremo, qui circa 95-96 anni, in molti si erano già espressi circa questo Color Zagor, io però ci arrivo con un po' di elegante ritardo. Successivamente ci arriverò con ulteriore elegante ritardo, perché ormai la puntualità proprio è bandita, vietata, censurata, esiliata altrove, non fa parte di questo canale. Allora, dunque il numero 16 per l'appunto, la copertina è di Alessandro Piccinelli con colorazione di Roberto Piere. Piccola parentesi, io forse sulla pagina Facebook di Piccinelli, oppure su qualche altra realtà Facebook, sempre riguardante Zagor, naturalmente, ho visto, avevo visto ai tempi in cui uscì questo speciale, alcune prove di copertina, insomma, di questo albo, secondo me migliori rispetto alla copertina finale, quella che poi si è scelta, appunto, che vedete retta da me in mano in questo preciso istante. Naturalmente ci sono molti fattori che intercorrono nella scelta o meno di una copertina, molto banalmente, magari può anche essere che si sia scelta una raffigurazione che non era stata granché ritratta altre volte su altre copertine, di altri speciali, di altre case di Dia, no, altre case di Terici, no, case di Terici della Bonelli, ma naturalmente magari riferenti ad altri personaggi, anche se in questa copertina comunque qualche elemento fantastico, questo galeone volante, questa è sempre il taglio obliquo, naturalmente, tanto caro a Piccinelli, però è una copertina che tutto sommato, non lo so, non rende molto l'idea di quello che c'è all'interno di questo volume, perché in questo volume Zagor combatte contro dei mostri, contro degli scimpanzee antropomorfi, insomma, fa di tutto e di più, e questa copertina è un po'... non lo so, non rende molto l'idea, a mio avviso, cioè uno che non sa che cosa ci è raffigurato all'interno, uno che non sa che è la terza parte di una storia che era iniziata parecchio tempo fa, forse... e quindi non sa quali elementi ci troverà all'interno di questo volume, ma io forse avrei scelto un altro momento in più dell'avventura, più, in qualche modo più, diciamo, più avvincente, ecco, così. Invece questa è una copertina d'insieme, bella, ben disegnata, ben colorata, naturalmente, però, non lo so, forse occorreva metterci un po' più di mordente nella copertina, se mi è permesso, naturalmente, se mi è permesso muovere questa critica. E, a proposito di critiche, devo criticare anche, purtroppo, naturalmente, secondo il mio gusto, un po' la veste grafica di questo albo, perché sa un po' di vecchio, sa un po'. I disegni sono di Fabrizio Russo e la colorazione è della GFB Comics, con coordinamento di Nucci Guzzi. Ora, i disegni sono un po' statici, secondo me, e la colorazione è veramente un po' troppo piatta, con questi sfondi un po'... non lo so, non mi ha convinto né il disegno e né soprattutto la colorazione, perché poi, in realtà, insomma, il disegno offre delle vignette anche molto belle, qui la colorazione è efficace, però in linea di massima è una colorazione che, in alcuni punti, veramente appiattisce il disegno, che è già abbastanza fermo, soprattutto, a mio avviso, si nota nelle sequenze d'azione, come potete vedere qui, un disegno davvero poco avvincente, anche nell'ottica, magari, di regalare, di donare, di imprestare, insomma, di passare questo numero di zagora, magari qualcuno che coglie l'occasione, appunto, per avvicinarsi alle letture dello spirito con la scure, è un disegno che offre, a mio avviso, ben poco di attraente. Vedete anche come le scene di battaglia, insomma, queste sequenze piuttosto dinamiche risultano, sempre naturalmente, a mio avviso, si intende, mi interesserà poi sapere anche il vostro parere, tutto sommato un po' ferme, un po' statiche, e questa colorazione veramente un po' appiattisce. A mio avviso è un po' un peccato, perché la storia, sceneggiata da Mirko Perniola, a mio avviso, poteva offrire, vi mostro nel frattempo anche il frontespizio, un po' basico, secondo me, dicevo, poteva offrire qualcosa di avvincente, anche a livello grafico, perché, come vi dicevo prima, questa altro non sarebbe che la terza parte di un'avventura iniziata nel 1990, avviata nel 1990, con lo speciale numero 3, io non ho letto nella prima, nella seconda parte di questa avventura, denominata la prima storia La città sopra il mondo, sceneggiata da Marcello Toninelli e illustrata da Galeno Ferri, io naturalmente mi aiuto con i colori di Darkwood, non i tamburi, ma i colori di Darkwood, che è l'introduzione curata, naturalmente, dal curatore della serie, curata dal curatore, scusate il gioco di parole, Moreno Burattini. La storia aveva avuto anche un primo sequel nel 2020, uno dei color zagor recenti, il numero 11 appunto, quindi il terzo ultimo, ovvero il rapimento di Icaro Laplume, illustrata da Fabrizio Russo e sceneggiata sempre appunto da Mirko Perniola. Questo è il paragrafo, probabilmente, non lo so, conclusivo, forse sì, forse no, non credo, di questa avventura, incentrata sulla cittadina di Olundas, che come appunto spiega l'utilissimo riassunto, diciamo, dei colori di Darkwood, utilissimo per me, che non avevo letto i capitoli precedenti, Olundas, posta sulla sommità di una torre di pietra, mostra, insomma, una civiltà che appunto vive in questo villaggio, che riesce a sopravvivere grazie alle tecnologie degli abitanti di Atlantide, cioè le tecnologie ereditate dall'antica civiltà di Atlantide, che permette loro appunto di vivere autonomamente, quindi senza entrare in contatto con il mondo al di fuori appunto dalla sommità di questa montagna, di questa roccia su cui appunto si dirigono zagor e compagni. Vivere così serviti quotidianamente, da questa tecnologia, ha fatto via via, nel corso dei decenni, abbassare la guardia agli abitanti di Olundas, che poi, davanti alle minacce del malvagio Saltur, si sono trovati, diciamo, incapaci di difendersi, anche perché Saltur aveva scatenato contro gli abitanti di Olundas alcuni spaventosissimi mostri che vediamo anche in questa storia, in tutta la loro pericolosità. Come potete vedere, insomma, veramente mostruosi, a quattro braccia, con le antenne in testa, gli occhi sporgenti, pelosi, pelosissimi con questi pelacci e, insomma, veramente con queste zanne e anche questi artigli che li rendono assai letali. Come questo Saltur sia riuscito a creare questi mostri è un interrogativo che mi sono posto senza trovare risposte, infatti mi piacerebbe leggere soprattutto il primo capitolo, appunto, di questa trilogia. Si può definire a tutti gli effetti una trilogia, credo, per capire, appunto, come siano stati partoriti, insomma, questi mostri. Deve essere qualcuno che li ha procreati, non lo so, perché, insomma, sono veramente brutti, ecco. Anche, devo dire, comunque piuttosto efficaci, ecco, sì, nella rappresentazione grafica, perlomeno i mostri sono concepiti in maniera convincente, perché, insomma, provocano ribrezzo, ecco, nei confronti del lettore. Ma vedete che, oltre ai mostri, appunto, c'è questo scimmione antropomorfe che si chiama Serkis, c'è un personaggio simile anche nell'epopea di Flash, il supereroe DC, che è uno scimpanzé che ha conquistato, in qualche maniera, un'intelligenza superiore, che in questa storia si scoprirà a che cosa è dovuta, insomma, questa intelligenza superiore, cioè perché questo scimmione riesce, appunto, a governare questi mostri, sa dove sono posti determinati passaggi, determinati cunicoli, determinati pozzi, determinati, insomma, ascensori, ecco, si scoprirà tutto quanto in questa storia, con Zagor che tornerà, quindi per la seconda volta, è già tornato nel color Zagor numero 11, sulla cittadina di Olundas, perché nel frattempo gli ultimi, diciamo, grandi sapienti, ecco, di questa civiltà si sono tolti la vita nel tentativo di arrestare questa mostruosa, appunto, invasione, e si scoprirà anche in questa storia dove, che fine abbia fatto, insomma, questo, questo saltur, ecco, se è veramente morto, se non è morto, chi è questo Serkis, c'è dietro un po' di fantascienza, anche, ma c'è anche molta azione, come potete vedere in queste tavole e anche nelle altre che vi ho mostrato e nelle altre ancora che vi mostrerò, una storia veramente avvincente, a mio avviso, con tutto sommato pochi dialoghi, poche spiegazioni e tanta, tanta azione, tanta dinamicità, che per me, e torno a ripetere, poteva essere rappresentata in maniera ben più convincente dal disegnatore e dal colorista, anche della serie. C'è da dire, però, che, sempre secondo il mio parere, naturalmente, anche senza il riassunto iniziale, che comunque dà una buona mano, appunto, posto nell'introduzione, la storia è tranquillamente comprensibile a sé, anche perché all'inizio di questa avventura ci sono alcuni flashback che raccontano, riassumono ciò che era successo nella prima parte e soprattutto nella seconda parte, quindi io direi che non è comunque necessario conoscere le scorse due avventure per riuscire a leggere, perlomeno ecco, a leggere piacevolmente questo terzo numero. Diciamo che la storia lascia veramente, mi ha lasciato veramente con un senso di incompletezza perché avrei voluto, diciamo, maggiormente, ecco, valorizzate, avrei desiderato si valorizzasse maggiormente la dinamicità di questa sceneggiatura con i disegni e la colorazione. Vedete anche Chico, insomma, impegnato in un breve scontro con uno di questi terrificanti mostri. Però, nello stesso tempo, questa avventura mi ha incuriosito, mi ha ingolosito circa le due precedenti relative alla cittadina di Olundas, per cui diciamo che come trampolina di lancio potrebbe essere l'ideale per spingere poi il lettore, poi anche quello che si dovrebbe, quello che una casa editrice come Labonelli naturalmente dovrebbe fare, spingere il lettore a recuperarsi le storie precedenti. Io concludo qui la mia opinione circa il Color Zagor numero 16, che numero 13? Numero 16, scusate, prima allora ho commesso una irreparabile gaffe, scusate, e fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate naturalmente di questo Color Zagor, se l'avete letto, se l'avete apprezzato oppure no, e soprattutto se consigliate le prime due a me e agli altri che non le hanno lette, le prime due avventure di questa trilogia zagoriana. Ciao a tutti e buon proseguimento di avventure, non di letture. Ciao!